Bene, avverto che se non vi sono obiezioni la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione streaming sulla web tv della Camera dei Deputati. Nella seduta odierna riprendiamo lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in corso sulla semplificazione dell'accesso ai cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e in tale ambito avrà luogo l'audizione della dottoressa Tiziana Frittelli, Presidente di Federsanità Anci che ringrazio per aver prontamente accolto la richiesta di partecipare ai nostri lavori e di particolare interesse per la Commissione ascoltare la voce di Federsanità, soggetto istituzionale che rappresenta le esigenze di aziende sanitarie locali e ospedalieri ed enti locali al fine di migliorare i percorsi di integrazione sociosanitaria e socioassistenziale. Come abbiamo già avuto modo di ascoltare nel corso delle precedenti audizioni la sfida posta delle nuove tecnologie digitali in ambito sanitario apre scenari molto promettenti, per certi versi affascinanti dal punto di vista della facilità di accesso dei cittadini alle cure del rafforzamento della rete territoriale di assistenza oltre che dalla semplificazione della gestione dei processi amministrativi sanitari. Il punto di vista della prospettiva di lavoro che attori fondamentali come aziende sanitarie e comuni intendono portare avanti in questo processo di cambiamento riveste un'importanza decisiva per capire anche il possibile apporto che il legislatore può dare a sostegno di interventi che vanno a incidere su un bene primario, qual è la salute dei cittadini. Do quindi la parola alla dottoressa Frittelli riservando come di consueto uno spazio alla fine della relazione ai colleghi che desidereranno intervenire. Innanzitutto ringrazio la Commissione per la sensibilità enorme dimostrata nel voler audire i vari organismi che sono sul campo. Io prima di parlare preferirei mostrarvi un piccolo video che noi abbiamo creato e che secondo noi dovrebbe essere un pochino la cifra verso la quale si deve muovere la sanità per facilitare i percorsi di presa in carico soprattutto dei soggetti più fragili sia dal punto di vista sanitario che sociale. La tecnologia può aiutarci a curare le persone? Sì, ma non stiamo parlando di questa tecnologia. Parliamo delle tecnologie digitali del sistema socio-sanitario che rendono più efficace e servizia la collaborazione con servizi esistenziali e migliorano la vita cittadina. Le tecnologie portano più qualità e efficienza nel sistema sanitario, permettono di utilizzare meglio le risorse e garantiscono cure più approviate ed efficaci. Cerchiamo di capire come. Prima di tutto, la condivisione in rete delle informazioni socio-sanitarie relative ai pazienti, sempre in pieno rispetto della traio, permette alla sanità di fare il sistema in modo non cittadino e di accompagnarlo in tutto il suo percorso di tutela, dalla struttura sanitaria fino a casa. Grazie alla tecnologia digitale, quindi, i cittadini possono ricevere le cure più efficaci con procedure più stelle e imparare a gestire meglio la sua salute. E c'è un problema. Non parliamo solo di cure, di assistenza, ma anche di prevenzione. La tecnologia digitale, infatti, ci permette di offrire ai cittadini alcuni servizi innovativi, come il telemonitorato, la teleassistenza e il teleconsulto, per essere più vicini al paziente anche a distanza. L'innovazione digitale, permette a me di misurare a distanza i valori del paziente, di contattare la persona che ha bisogno e di valutare il tempo reale della situazione. Inoltre, se la complessità della situazione è l'ordine, non vi ne è in punto di sfruttare una specie di vista a distanza e individuare insieme il percorso di tutela personale. Ma non è ancora tutto. L'innovazione digitale, permette a chi è entrato nella terza età, di vivere in modo più autonomo e di fare sicurezza. Ad esempio, con l'aiuto della tumotica, possiamo rilevare le emergenze e attivare gli interventi più adeguati. Infine, la tecnologia digitale permette di gestire in maniera più veloce ed efficente le prestazioni di cui le persone hanno bisogno e dedica l'utilizzazione di esami. La tecnologia digitale, quindi, crea una vera e propria rinche intorno al paziente e, cosa ancora più importante, da tutti i soggetti pervolti nella sua cura e assistenza. Una rete sulle quali le informazioni circolano velocemente e possono essere resi accessibili in tempo reale agli operatori e qualità. Ecco perché è fondamentale che ne facciano parte anche i privati o liberi professionisti. Nei loro studi e nelle loro strutture si svolge il 40% del totale delle prestazioni sanitarie. Quest'amore di dati risulta fondamentale per programmare le interventi. Non basta durare, occorre prendersi cura delle persone. Ogni giorno, portando la salute a casa dei materi. Con l'innovazione tecnologica lo possiamo fare. Feder Sanità è un soggetto istituzionale che ha come mission il raccordo tra mondo delle aziende sanitarie e amministrazioni locali per facilitare i percorsi di integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale e diffondere sani stili di vita per prevenire l'insorgenza di malattie croniche e delle dipendenze. Feder Sanità è una rete attiva sul territorio costituita dalla Feder Sanità Anci Regionali che il raccordo con le Anci di riferimento promuovono buone pratiche di prevenzione sul territorio. A livello nazionale la Confederazione dialoga e collabora con il coordinamento nazionale Anci Salute che è stato costituito da poco peraltro con l'obiettivo di mettere al centro temi, contenuti, iniziativi per rispondere meglio in termini di qualità e prossimità ai bisogni dei cittadini. Diciamo che in realtà con Anci stiamo cercando di fare un discorso integrato proprio nella nozione di quella che oggi viene definito l'ecosistema salute in maniera che ci sia un allineamento tra politiche della sanità e politiche ambientali per esempio produttive vediamo purtroppo dalle cronache diciamo quali possono essere i problemi che si creano in maniera tale di andare tutti verso un'unica direzione in una logica quella del One Health quindi salute sia degli individui che di tutto l'ambiente agroalimentare e soprattutto passare come diciamo noi da una visione di presa in carica della sanità a quella della salute in senso più ampio. Il punto di osservazione qui rappresentato parte quindi proprio dal ruolo istituzionale dell'Associazione che mette assieme esigenze e punti di vista di aziende sanitarie ed enti locali, sottolineando la lettura che tali enti fanno del tema dell'accessibilità del cittadino ai servizi sanitari ed allorgandola ai servizi integrati sociosanitari. Nel documento si affrontano alcuni dei problemi di accessibilità e si propongono soluzioni anche tenendo conto di alcune esperienze attive tra gli associati. Noi abbiamo alcune federazioni regionali che sicuramente sono più avanti su questo tipo di tematiche anche collegate al filmato che abbiamo visto. Tipologia di accesso. L'accesso al servizio sanitario presenta problemi e richiede approcci organizzativi diversi in base alle caratteristiche del cittadino e alla tipologia di accesso richiesto. Sulla base delle caratteristiche del cittadino si possono identificare le seguenti tipologie. Accesso occasionale. Il cittadino ha necessità di una singola prestazione. In questo caso sarà importante la facilità con cui è possibile identificare modalità e luogo dove per ottenere la prestazione più appropriata ai relativi tempi di attesa. Accessi ripetuti per lo stesso problema. È il caso tipico di persone con una patologia o più patologie, direi cronico, di lunga durata che richiede la necessità di programmare più accessi in maniera semplificata per evitare la ripetizione inutile di pratiche burocratiche e per rispettare il calendario dei controlli richiesto dagli specialisti. Accessi ripetuti per problemi di diversa natura. Rientrano in questa categoria le persone con più patologie o con un insieme di problemi sanitari e sociali o socioassistenziali. Si tratta in molti casi di persone anziane per le quali è necessario programmare l'accesso a più servizi specialistici. In alcune situazioni anche organizzare servizi di trasporto e assistenza, servizi a domicili, compresi pasti e pulizia. Accessi di persone affette da gravi forme di disabilità o patologie di tipo psichiatrico. In questo caso le difficoltà all'accesso sono dovute principalmente alle difficoltà delle persone stesse nella comprensione dell'organizzazione dei servizi o nella resistenza ad entrare in luoghi poco familiari. L'altra difficoltà è la scarsa familiarità di molti operatori sanitari all'approccio con persone che hanno questa tipologia di problemi, soprattutto per i problemi psichiatrici. Aree di difficoltà all'accesso. Oltre al problema più conosciuto e trattato, quello dei tempi di attesa per ottenere la prestazione, su cui vi sono stati interventi normativi anche recenti, piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, esistono altre aree che meritano attenzione e interventi migliorativi. Urban-rural divide. La carenza di personale e del servizio sanitario nazionale, in particolare di quello medico, sta concentrando sempre di più nelle aree urbane servizi e professionalità, lasciando ampie zone del territorio, in particolare quello montano, in grave sofferenza. Si pensa ad esempio alla grave carenza di medici, di medicina generale, che si aggraverà ulteriormente nei prossimi anni, e per la quale sempre più sindaci segnalano problemi e disagi. Vi porto un piccolo esempio dell'ospedale che dirigo, che è il Policlinico di Tor Vergata. Ho fatto di recente un concorso, e poi a Roma, insomma, in un Policlinico universitario, per medicina d'urgenza. Dei 36 vincitori, nessuno, devo dire, ha accettato. Ed è stata positivissima l'innovazione normativa che ha consentito di partecipare agli specializzanti nell'ultimo anno, perché sto aspettando che si specializzino, in quanto sono gli unici, ad aver accettato l'impiego. Moltiplicità di servizi e benefici. Per alcune tipologie di problemi, esempio non autosufficienza e disabilità, i servizi e benefici disponibili sono numerosi, ed erogati da enti diversi. Per i cittadini non è sempre facile conoscere tutti i servizi disponibili e sapere le modalità di accesso. Il cittadino, quindi, rischia di non ottenere prestazioni a cui ha diritto. Scusate, ma c'è qualche piccolo erroretto, ma l'abbiamo fatto proprio di fretta. Moltiplicazioni degli accessi. Talvolta per ottenere un beneficio, esempio estensione ticket per patologia, il cittadino, pur in possesso della documentazione disponibile, deve comunque ripetere procedure o visiti presso altri uffici o servizi. Anche qui vi porto un piccolo esempio personale. Io e mia sorella abitiamo a Roma, mio papà, che è mancato da poco, aveva un Alzheimer grave, e quindi avevamo trovato una persona che aveva bisogno però della macchina, nonostante avesse, diciamo, anche l'accompagno con una, diciamo, invalidità del 100%, abbiamo dovuto accompagnarla a fare un'ulteriore visita per poter avere la legge 104,3, che era l'unica che desse il beneficio per poter acquistare una macchina con benefici, per dire le duplicazioni alle quali spessi i pazienti sono assoggettati. Disuguaglianze, esiste ormai una consolidata letteratura scientifica che ha dimostrato che l'accesso ai servizi sanitari, dalla prevenzione alla cura, ampiamente condizionato da reddito, titolo di studi e residenza, nord e sud in particolare, questo comporta anche importanti conseguenze sullo stato di salute e sugli esiti. Ipotesi di intervento e di miglioramento, in linea generale si possono identificare almeno 5 aree di intervento di carattere generale riassumibili con uno slogan. One shot, one goal. Sviluppo diffuso dei punti unici di accesso. È necessario che il cittadino abbia un riferimento semplice e unico da cui accedere ai servizi. Questo punto unico può essere fisico, telefonico o informatico. Le aziende, insieme di aziende e servizi degli enti locali, devono innanzitutto rendere esplicita e trasparente la propria organizzazione e quindi metterla a disposizione del cittadino. I punti di accesso devono garantire l'informazione alle persone e famiglie sull'intera gamma degli interventi e supporti che potrebbero essere utili, erogabili non solo dal Servizio Sanitario Nazionale o dai servizi sociali locali, ma anche da altre amministrazioni e soggetti del territorio, quale agevolazioni fiscali nei trasporti, nella riduzione delle barriere architettoniche, nei congedi a familiari del disabile o non autosufficiente, nelle prestazioni erogabili dall'Inps. La famiglia del non autosufficiente dovrebbe incontrare in un unico luogo un'informazione e agevolazione all'accesso, non solo per gli interventi per quel front office attivo, ad esempio la notazione nel punto unico di accesso per l'appunto, ma su tutto ciò che offre il welfare sarebbe utile che i punti di accesso potessero anche favorire l'accesso alle diverse prestazioni, anche di diverse amministrazioni, sino all'eventuale accompagnamento nel caso di persone che non potrebbero accedervi senza tale risorsa. È necessario poi che l'informazione sulla natura, localizzazione e funzione dei punti di accesso sia avvicolata con continuità a cura delle aziende sanitarie e degli enti gestori dei servizi sociali verso tutti i soggetti che ne possono a loro volta informare persone e famiglie, tra i quali i medici di medicina generale, gli ospedali, le strutture sanitarie di ricovero post ospedaliero, le strutture residenziali per non autosufficienti, gli uffici relazioni col pubblico delle aziende sanitarie e dei comuni, i servizi di continuità assistenziale delle aziende sanitarie, i patronati sindacali, le associazioni e fondazioni di tutela e supporto di disabile non autosufficiente. Noi con il coordinamento Anci Salute pensiamo per l'anno 2020 proprio di lanciare una campagna di questo genere, di monitoraggio, per cercare di diffondere questa cultura dei punti unici di accesso tra più amministrazioni. Meccanismi di incentivazione per mobilità a tempo e chippe itineranti. Presso zone rurali, montane e di provincia, sarebbero opportuni meccanismi di incentivazione a mobilità a tempo e chippe itineranti, previsti nel prossimo contratto collettivo della dirigenza e dell'accordo sui medici di medicina generale. Un aiuto potrebbe derivare dall'infermiere di comunità collegata ad un medico di un'equipe itinerante e dalla farmacia dei servizi. Noi come Federsanità abbiamo organizzato una serie di convegni studi nell'ambito del recente forum rischi di Firenze che si è tenuto pochi giorni fa. Una delle tematiche è stata proprio quella di verificare con tutti gli esperti del settore quali fossero gli impatti organizzativi del contratto collettivo della dirigenza e dei medici di medicina generale. Dopo dieci anni si è chiusa la tornata contrattuale sia per la dirigenza che per i medici di medicina generale. Era presente al convegno invitato da noi anche il presidente dell'Aran e funziona così. Il governo dà delle indicazioni al comitato di settore e il comitato di settore lo trasmetta all'Aran però quello che noi abbiamo rilevato è che spesso il contratto viene vissuto come una tutela dei dipendenti il che è sacrosanto ma il contratto collettivo della dirigenza e dei medici di medicina generale ha un impatto sull'organizzazione incredibile. Allora io vi ho raccontato le difficoltà di Tor Vergata che è pure un ospedale bellissimo a Roma seppur in una zona totalmente deprivata perché è una zona molto povera anzi io vi invito a fare visita sarebbe un grande onore per me se voi lo veniste a visitare e però a Latina, a Frosinone, a Viterbo spesso è ancora più difficile figuriamoci nelle zone montane il nostro collega dell'ASL 3 di Genova ci ha mostrato un esperimento che ci è piaciuto tantissimo lui nella zona di Genova ha delle zone nelle quali ha 6 abitanti per chilometro quadrato sono zone montane lei quindi lo conosce e in realtà avevano un posto dove c'erano 200 abitanti e nessun medico di medicina generale voleva andare quindi hanno individuato la figura dell'infermiere di comunità hanno attrezzato la farmacia come una farmacia di servizi seppur in piccolo per esempio hanno lasciato lì farmaci salva vita, adrenalina hanno formato alcuni volontari perché se non facciamo squadra tutti insieme davvero non ce la possiamo fare per esempio nell'utilizzo del defibrillatore anche con le scuole e quindi il medico di medicina generale va lì una volta a settimana comunque c'è il raccordo con l'infermiere di comunità c'è questa piccola farmacia che funge da farmacia dei servizi e sono riusciti comunque a coprire con un'assistenza quantomeno voglio dire di urgenza poi se c'è un'urgenza per l'appunto devono andare con l'elicottero però tuttavia è una piccola comunità che in qualche modo viene assistita e quindi in realtà quello che è emerso da quel convegno è per esempio la disponibilità del presidente dell'Aran anche ad ascoltare le varie associazioni tra le quali noi ci siamo proposte per dare indicazione nel prossimo contratto collettivo di incentivi per esempio alla dirigenza medica o ai medici di medicina generale soprattutto anche noi vorremmo un osmosi tra nord e sud c'è il grande professionista che vive a Roma che se accettasse una settimana per esempio al mese o tre giorni al mese di recarsi in una zona del sud dove certe specializzazioni non ci sono che so, prima parlavamo di radiologia interventistica è successo un recente caso di una persona che conosco è capitato in un ospedale del sud dove non c'era radiologia interventistica quella persona sarà costretta a 50 anni alle disabilità perché non esiste una rete tempo dipendente con specializzazioni elevate come per esempio ce l'ho io nel nostro ospedale e quindi in realtà una forma di incentivi contrattuali sicuramente secondo noi potrebbe aiutare data dall'indicazione del comitato di settore per un osmosi diciamo professionali nelle varie zone del paese alla ricerca del tempo perduto ovvero semplificazione delle procedure le aziende dovrebbero intraprendere un progetto alla ricerca del tempo perduto analizzando in collaborazione con l'associazione dei cittadini e con gli enti istituzionali preposte tutte le procedure complesse ripetute, ridontanti, inutili ed inefficaci che fanno perdere inutilmente tempo i cittadini e gli operatori per esempio proprio in questi giorni la regione Lazio ha fatto un protocollo tra IMS e ospedale partita dall'IFO con l'ospedale oncologico di Roma per la certificazione dell'invalidità in maniera tale che il malato oncologico senza fare tanti giri presso l'ospedale stesso possa avviare la certificazione di invalidità in questo capitolo rientra anche la pessima pratica delle istituzioni di chiedere più volte al cittadino informazioni che sono già in loro possesso si pensa ad esempio alla già citata esenzione ticket per patologia in cui ad oggi è spesso necessario fare due o tre passaggi per ottenerla in alcune realtà ad esempio in Friuli, Venezia e Giulia si è concesso ai medici di medicina generale di produrre la documentazione necessaria all'esenzione per ipertensione e diabete risparmiando così decine di migliaia di visiti inutili di tempo del cittadino Green Access abolizione degli spostamenti evitabili esistono ancora molti esempi in cui il cittadino e l'operatore sono costretti a spostarsi fisicamente in auto o con mezzi pubblici per fare una pratica ritirare un referto fare una prenotazione alcune aziende hanno calcolato il grande impatto ambientale dell'informatizzazione di alcune di queste pratiche oltre che ovviamente di miglioramento dell'accessibilità ad esempio la possibilità di poter vedere online i referti di esame di laboratorio o di diagnostica per immagini fa risparmiare ogni anno decine di migliaia di viaggi in auto per esempio presso il mio ospedale c'è vi dico che è un grande servizio è una cosa piccola che non costa ma un grande servizio per il paziente un diritto e un accesso per i cittadini con alcune situazioni complesse quale la grave non autosufficienza o disabilità state e regioni prevedono numerosi benefici con accessi a denti, commissioni, luoghi diversi la numerosità dei benefici può superare anche la decina come rilevato da alcuni dei nostri associati sempre in Friuli Venezia Giulia questo numero ha due implicazioni da un lato la difficoltà del singolo cittadino ad attivare tutte le procedure dall'altro la possibilità che il cittadino che ne ha diritto non ne venga a conoscenza e quindi non usufruisca del beneficio sarebbe quindi utile attivare norme e procedure per la semplificazione e unificazione di tali benefici si pensi ad esempio benefici simili agli soldi ISEE diverse sarebbe necessario che l'Agenzia delle Entrate l'Inps e l'INA sotto il coordinamento del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali producono una mappa articolata delle rispettive prestazioni e agevolazioni per le persone non sufficienti e le loro famiglie da giornale con scadenza almeno semestrali tale mappa ha lo scopo di informare in modo chiaro e completo sia le famiglie che i diversi servizi della rete e delle cure di tutte le opportunità e pertanto dovrebbe essere resa disponibile sui siti web delle amministrazioni citate e fornita alle regioni con modalità che consentano a regioni, asle, denti, gestori e servizi sociali di integrarla con le prestazioni locali gli interventi proposti hanno effetto generale sul miglioramento dell'accessibilità ma non sono sufficienti è necessario a nostro porere adottare anche misure ad hoc per problemi specifici quali quelli elencati nei paragrafi precedenti di seguito si analizzano alcuni di questi suggerendo relative proposte di miglioramento accesso ai servizi delle persone con patologie crotiche o punti problematiche questo è e sarà il punto più critico del servizio sanitario nazionale richiede quindi uno sforzo programmatico di medio e lungo termine un approccio corretto e proattivo può modificare misura rilevante qualità della vita e dei siti di salute è necessario una volta presi in carico la persona e condivisi con lei con la famiglia gli obiettivi e percorso l'accesso ai servizi sia agevole e programmati in anticipo è inoltre necessario che il monitoraggio della situazione sia continuo tempestivo in grado di fornire le informazioni per aggiustare rapidamente il programma intrapeso sulla base delle nuove necessità va prevista la figura del case manager di raccordo tra ospedale territorio medici di medicina generale appositamente formato potrebbe essere un informiere un assistente sociale o comunque di una persona che abbia evidenza dello stato del programma e che si occupi di tutti gli appuntamenti e delle scadenze il modello è un pochino quello del PDTA dei percorsi diciamo però ci deve essere qualcuno che governa questo percorso altrimenti il cittadino è costretto ad andare qua e là come una pallina impazzita in questo ambito ha anche un grande ruolo l'informatico per permettere un contatto costante tra cittadini e servizi accesso ai servizi di persone affette da gravi disabilità da patologia di tipo psichiatrico è noto che la mortalità per patologie diverse da quella specifica è molto più elevata della popolazione generale nelle persone con patologia psichiatrico o con gravi disabilità questo deriva da un'attenzione ai problemi principali che comportano spesso il trascurare altre malattie per tensione diabete in questi casi è dimostrato che un'organizzazione tenta e dedicata può influire in maniera rilevante sugli esiti e sulla gestione della malattia a questo proposito si risiene suggerire lo sviluppo di modelli consolidati dei servizi quali Disable Advanced Medical Assistance presenti ed attivi in alcune realtà italiane Pordenone, Milano, Trento sviluppo degli amministratori di sostegno questo è un tema cruciale l'amministrazione di sostegno istituita con legge 9 gennaio 2004 una figura importante di tutela e sostegno delle persone fragili essenziali quando vi siano frequenti contatti con il servizio sanitario nazionale noi in ospedale ne abbiamo contatti tutti il giorno nel territorio di competenza del Tribunale di Pordenone si è sviluppato un'interessante esperienza di forte coinvolgimento del volontarato e degli enti locali a differenza di altre realtà dove questo compito è stato affidato ad avvocati immaginate un avvocato poverino che può capire del sistema sanitario nazionale in questo caso la maggioranza degli amministratori sono volontari costituiti in associazioni e sanno quello di cui si parla questa scelta ha comportato almeno due effetti molto positivi la sottolineatura del ruolo di aiuto e lo stimolo che gli amministratori hanno dato al miglioramento dei servizi quali case manager della persona abbiamo finito ruolo delle tecnologie informatiche per il miglioramento dell'accesso Federsanità anche attraverso le iniziative di alcuni associati sta lavorando attivamente sulla riflessione del ruolo delle tecnologie informatiche per il miglioramento della vita delle persone e dell'efficienza ed efficacia dei servizi si ricorda a tal proposito una redazione della carta di San Vito al tagliamento sulla promozione e sviluppo della robotica e della domotica che è molto recente è stata presentata pochi giorni fa nel nuovo paradigma di integrazione tra ospedale e territorio in cui sono stati sintetizzati alcuni principi guido operativi l'abbiamo vista quindi li leggo velocemente teleconsulti intelligenza artificiale monitoraggio a distanza app personali conclusioni Federsanità mette a disposizione la propria esperienza e le competenze sul campo dei propri associati per qualsiasi iniziativa sia in grado di migliorare l'accessibilità del cittadino al servizio sanitario nazionale Federsanità ritiene che l'accesso sia uno dei temi di primaria importanza per favorire l'equità e l'universalità dei servizi sulla base dei criteri definiti dall'European Passions Forum nel 2016 per migliorare l'accessibilità il servizio sanitario nazionale deve essere adeguato accessibile sostenibile appropriato e disponibile vi ringrazio grazie 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 dottoressa Frittelli per la relazione se ci sono interventi perché so che poi le commissioni prego sì grazie presidente ringrazio la dottoressa Frittelli per la relazione nella quale condivido quasi la totalità dell'impianto salvo la considerazione sugli avvocati che non condivido ovviamente al di là delle battute ah beh va bene perfetto perfetto va bene a difesa della mia categoria solo questo me lo consentirà presidente è infatti è fondamentale io penso farei una riflessione anche di natura culturale cioè noi fino a qualche decennio fa anche per la impossibilità di utilizzare strumenti diagnostici come accade oggi e questo sappiamo anche ha determinato anche il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva cioè l'utilizzo degli strumenti diagnostici anche in patologie che un tempo venivano facilmente rilevate e individuate dai medici di base i cosiddetti medici di base che erano in front office e sono quelli che hanno la conoscenza approfondita e come dire più chiare la situazione hanno una situazione chiara del paziente sono in grado quindi di raccontarne anche la storia clinica io penso che invece in questi anni si sia perso il patrimonio che era costituito da queste risorse di competenze di grande diciamo preparazione che erano i medici di base cioè sono adesso considerati lei ha fatto una riflessione in ordine alla difficoltà di reperire medici di base deriva anche dal fatto che questi sono considerati medici serie B non più cioè coloro che sono chiamati soltanto a fare la ricetta fare la prescrizione andare in farmacia consentire andare in farmacia a prendere il farmaco io penso che il lavoro che si debba fare è soprattutto quello di formare una nuova classe competente che torni ad avere quel ruolo che non è solo tecnico ma anche sociale che hanno rivestito negli anni i medici di base perché una deospedalizzazione che noi sappiamo i costi maggiori si hanno nell'ospedale quindi il lavoro che si deve fare è che si sta già facendo ma non è ancora evidentemente sufficiente è quello di potenziare la medicina del territorio investire sulle competenze dei medici di famiglia e trasferire gran parte delle competenze ospedaliere sulla medicina del territorio se noi saremo in grado di farlo ma questo avverrà se ci sarà un maggiore affidamento nel medico di base se il paziente riterrà di potersi come accadeva un tempo di potersi fidare della diagnosi immediata e è più semplice perché il medico di base è a 10 metri da casa nostra quindi è nelle condizioni di essere il primo punto di riferimento sulle nostre patologie quindi io penso che sia indispensabile investire e questo ha un riflesso anche sulla rete di emergenza urgenza perché quanti codici non rossi noi abbiamo ai nostri pronti soccorso abbiamo decine che finiscono per ingolfare l'attività e per far sì che il paziente attenda anche 8-10 ore a pronto soccorso per essere visitato esattamente esattamente quindi questo significa che anche su questo un lavoro della medicina territoriale può servire io personalmente le dico la mia esperienza sono state 8 ore in attesa di una puntura per di un Thoradol per un banalissimo mal di denti le farmacie notturne le farmacie notturne capita anche agli avvocati le farmacie notturne si rifiutavano perché ovviamente questi malesseri capitano di notte e il sabato santo evidentemente quindi è normale che insomma poi si debba ricorrere alle prestazioni pronto soccorso in quel caso la guardia medica è chiusa le farmacie si rifiutano di dare farmaci che non siano la casa della salute la casa della salute non ce l'abbiamo quindi a quel punto è chiaro che si finisce per ingolfare l'attività del pronto soccorso quindi io credo che sia indispensabile lavorare culturalmente ma soprattutto investendo risorse noi abbiamo degli esempi molto positivi in Puglia di aggregazione dei medici dei medici territoriali che alla fine creano una vera i famosi PTA oltre oltre a la casa le case della salute che stiamo in realtà realizzando scherzavo prima quando dicevo che non ce l'abbiamo ma molti comuni hanno sostituito le strutture ospedaliere perché il DM70 ha imposto la razionalizzazione del sistema che non è una razionalizzazione economica come è noto ma è una razionalizzazione di efficienza delle strutture ospedaliere quindi noi nel momento in cui abbiamo ovviamente chiuso degli ospedali abbiamo provato a costruire dei punti di riferimento sanitari che possono comunque far sentire il paziente meno privo come si sente in realtà meno privo di risposte alla domanda di salute quindi io credo culturalmente bisogna investire costruire una nuova classe medica che si avvicina ai cittadini e questo ci servirà di risparmiare moltissimi soldi sulla deospedalizzazione ed è su questo che secondo me credo sia opportuno lavorare grazie 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 la carra altri se posso posso aggiungere io una cosa così puoi fare le risposte no volevo ringraziarla perché noi stiamo facendo questo giro di audizioni diciamo in ragione dal punto di vista dell'oratore leggiamo anche noi in controluce la sanità italiana o almeno gli aspetti di cui ci stiamo occupando nel senso lei oggi guardando dal punto di vista territoriale e quindi da una prospettiva diversa rispetto a quella classica noi abbiamo fatto molte audizioni in cui c'è stato spiegato l'andamento dello sviluppo della sanità digitale che ha a mio punto di vista chiaro scuro nel senso una progettualità futura di assoluta rilevanza e una praticità attuale che è quella che lei ci ha detto diciamo in alcuni punti sembra di essere ritornati nel film alla conquista del West cioè nei comuni dove si hanno sei cittadini per chilometro quadrato arriva il dottore no l'infermiere col calesse quindi diciamo il digitale sarebbe la risposta moderna del dottore che arrivava una volta sperando di trovare ancora in vita il paziente quindi è chiaro che c'è bisogno di un punto di vista come questo per entrare poi in profondità a questo vorrei aggiungere soltanto due aspetti il punto digitale ormai non va più pensato se va fatto o no è chiaro che è l'unica prospettiva reale che c'è ma ci sono alcune questioni che lei ha sottolineato che io volevo con lei capire anche perché la nostra commissione non ha soltanto lo spirito di fare queste audizioni ma anche la voglia di provare a collaborare in quanto fatta da parlamentari deputati e senatori a legiferare fuori da questa commissione contribuendo a migliorare quello che qui ci viene rappresentato diciamo come migliorie da fare le faccio alcuni esempi delle cose che lei ci ha detto per semplificare la vita dei cittadini invalidità oggi il percorso per un cittadino per arrivare ad ottenere l'invalidità è un percorso ad ostacoli e il primo ostacolo deriva dal fatto che quel cittadino deve sapere di avere quel diritto perché nel momento in cui una persona si trova nelle condizioni di essere invalida al 100% i familiari non pensano all'invalidità pensano al problema del loro caro e allora per esempio da questo punto di vista siccome la procedura attuale prevede che un cittadino deve essere informato fare delle domande quelle domande devono essere valutate da più settori della pubblica amministrazione e poi quel cittadino invalido deve presentarsi per fare più controlli e dimostrare di essere invalido il tutto dopo essere stato ricoverato probabilmente in un ospedale pubblico e rilasciato attraverso la firma di un primario che in quel momento lo ha certificato in uscita in qualche modo è possibile pensare secondo lei una semplificazione per cui il modello si inverte è chiaro che ci sarà sempre bisogno di verifiche ma nel momento in cui un cittadino ha avuto un problema ed esce dall'ospedale con la certificazione di invalidità perché non è già ritenuto invalido e poi un anno dopo sei mesi dopo un anno e mezzo dopo a secondo di quello della gravità fa il controllo con modalità anche più urbane perché chi conosce il nostro territorio sa che dei cittadini che non hanno più la possibilità di spostarsi magari devono fare 100-150 km in macchina per poter andare nella commissione provinciale per fare quindi parlo di questo come modello di semplificazione naturalmente sono tutte le altre di cui lei ha parlato quelle delle condizioni specifiche per cui per il diabete quindi avere le sensazioni di ticket dove forse il digitale dovrebbe provare a dare una mano da questo punto di vista perché pure lì il medico di base che certifica attraverso le analisi la condizione dell'assistito qual è la necessità di doversi recare poi successivamente in un centro dove si timbra una carta che poi si porta da un'altra parte che poi deve essere vistata da un'altra parte che poi dà l'autorizzazione fino a quando però ogni sei mesi deve ritornare per fare il piano sanitario e deve ritornare lì un giorno di permesso è una modalità ottocentesca ottocentesca in una società che non consente più a nessuno di poter vivere nell'ottocento allora se voi fate questo diciamo con la praticità di chi vive le vicende attraverso i comuni i centri ci sono delle cose io penso che parte poterlo fare in proprio però anche in una prospettiva diciamo di continuo lavoro provare a migliorare il servizio togliendo le burocrazie efficientando il sistema nel rapporto tra i cittadini e i problemi che non vorrebbero affrontare perché io parto sempre da questo e concludo che la sanità deve essere efficiente al punto tale che ogni cittadina avrebbe diritto di non doverla incontrare perché nessuno vorrebbe incontrare la sanità però quando la incontra deve avere la possibilità di non doversi ammalare la seconda volta per colpa della burocrazia che invece poi vessa i cittadini mi fermo qui e le do la parola prego considerazione velocissima la prima è questa credo che una delle cose che voi come Anci mondo Anci e noi come istituzioni dovremmo fare è creare meccanismi di circuitazione generale delle buone prassi perché poi tanti modelli organizzativi in cui lei anche brevemente faceva riferimento probabilmente chiedono meno risorse e più pensiero e il pensiero come dire è una di quelle poche cose che possono essere date senza perdere cioè io posso darlo a cento senza rimetterci nulla sostanzialmente se mettiamo in gioco questo e credo che questa sia una considerazione che mi veniva sentendo lei prima in generale la seconda è che perché questo mondo che c'è oggi ma che speriamo ci sia di più domani funzioni realmente bene serve una piattaforma un'infrastruttura informatica funzionante perché il tema drammatico delle zone io vivo in una provincia che ha 250 comuni di cui 210 sono sotto i 2000 abitanti e ce ne sono almeno 1000 che sono sotto i 500 abitanti ce ne sono almeno 100 che sono sotto i 500 abitanti e il problema è che in quei posti lì internet arriva con la manovella cioè nel senso che la velocità di come dire trasmissione delle informazioni e la potenzialità di trasmissione perché determinati file non si trasportano proprio nel senso che non arriverebbero mai in quei posti lì ancora adesso c'è tutto l'intervento che si sta facendo con il programma di alcuni anni fa di copertura delle zone bianche di mancato interesse economico per quel che riguarda l'infrastruttura internet e via discorrendo però questo credo sia uno dei temi che questo tipo di futuro ci consegna in modo come dire drammaticamente cogente perché senza quella infrastruttura lì è tutta filosofia quella che stiamo facendo ecco prego grazie presidente siccome devo scappare volevo avevo solo una curiosità ho visto l'ultima parte del filmato del video che è stato proiettato proprio per come diceva il collega Taricco per far girare le informazioni mi chiedevo se avessimo la possibilità di ricevere quel filmato non so se è previsto e se potremo farlo girare in qualche modo ok grazie allora assolutamente mentre mentre l'onorevole se ne va volevo dire che io ritengo che riteniamo come associazione che il problema del nuovo ruolo dei medici di medicina generale è essenziale uno dei convegni studi a Firenze è stato proprio sul nuovo ruolo dei medici di medicina generale perché ci sono due importanti novità uno una già decisione presa in conferenza delle regioni che non è stata attuata su un numero unico di chiamata per le prestazioni non urgenti nei confronti dei medici di medicina generale che noi intendiamo diciamo sul quale intendiamo riaprire un dibattito e due è probabile questo vi riguarda proprio ad ore è probabile che in finanziaria passi la proposta di destinare una piccola somma ma insomma piccolissima non è di circa 230 250 milioni non ricordo l'esatta cifra per le piccole attrezzature da destinare ai medici di medicina generale quindi parliamo di alter parliamo di elettrocardiogramma parliamo di piccole attrezzature per la capacità polmonare e questo però mette al centro di tutto la discussione se quale deve essere il ruolo perché ovviamente la FIMG rilancia che la federazione dei medici di medicina generale rilancia dicendo però se questo è lo studio la regione ci deve mettere l'infermiere devono essere studi complessi la strada è quella che ha detto lei secondo noi e cioè quella dell'unione peraltro già tracciata nel 2012 dal decreto Balduzzi quella dell'unità di cure complesse e quindi dell'associazione dei medici di medicina generale però secondo me è necessario colgo la come dire la provocazione del presidente su eventuali altri interventi io ne sono sempre convinta questa è una convinzione mia di operatore della sanità che ripeto è un mondo che io amo da morire che è questa attualmente il sistema di finanziamento che è tracciato dal decreto legislativo 502 del 92 che è stato poi ritoccato dalla riforma Bindi nel 99 e poi ha avuto una piccola modifica nel 2012 da Balduzzi secondo me il sistema di finanziamento è totalmente starato perché il finanziamento delle ASL che gestiscono gli accordi territoriali è per quota capitaria per quota capitaria vuol dire come mio figlio che non ha tanta voglia di studiare mi dice dammi 50 euro un po' dopo studio cioè nel senso che comunque non c'è come per esempio avviene per gli ospedali un pagamento di remunerazione sulla base delle prestazioni effettuate che anche lì bisogna stare attenti ci possono essere effetti distorsivi quindi va studiato bene il sistema però il fatto che il pagamento e la remunerazione avvenga a prescindere da quello che si fa ora noi abbiamo grande fiducia nel nuovo sistema di garanzia che entrerà in vigore per il monitoraggio dell'EA dal primo gennaio 2020 che ha introdotto per la distrettuale cioè per l'assistenza territoriale dei nuovi riferimenti che prima non c'erano però alcuni e qui veniamo alla criticità che lei denuncia di cui ha ragione alcuni elementi di monitoraggio del territoriale in alcune regioni non possono essere proprio avviati perché non c'è un collegamento e un flusso informativo importante quindi in realtà noi crediamo che attualmente Presidente ci sia bisogno di riflettere su una nuova riforma e partire da questo tipo di tematiche è fondamentale quindi assolutamente il medico di medicina generale diventa una figura centrale di raccordo però ripeto dobbiamo essere allineati il prossimo comitato di settore sia per l'ARAN sia per la SISAC che è l'organismo che tratta con la medicina convenzionata quindi pediatri di libera scelta medici di medicina generale e specialisti che sono sul territorio devono prima dire qual è l'organizzazione cioè il governo a mio avviso deve dire qual è l'organizzazione che noi vogliamo questo anche come e poi finisco qui però questa è una questione diciamo lei mi parla di cose di contesto ho letto che comunque il MEF ha accettato di alzare il tetto per lo sblocco esattamente per lo sblocco del turno per quel che riguarda l'acquisizione personale ma la domanda è per farci cosa per farci cosa noi in Italia abbiamo molti più medici che in Europa e abbiamo molti meno infermieri allora non possiamo prescindere dal tipo di organizzazione che vogliamo realizzare per quel che riguarda invece la domanda del presidente io credo che prego scusa perché lei dice una cosa giusta nel senso che per farci cosa però noi abbiamo una sanità a macchie di leopardo nel senso ci sono alcune regioni dove mancano sia i medici che gli infermieri nelle realtà e lo sblocco dovrebbe servire per consentire a quelle regioni di poter utilizzare fino al 15 non al 5% una parte diciamo troppo bassa per nuova assunzione avendo fatto ma esiste la possibilità dal centro di dire fin dove si può arrivare in tutte le varie regioni per evitare che ci siano alcune regioni che nel corso del tempo per esempio hanno fatto incetta di figure di basso livello magari e per cui hanno riempito quel 5% senza fare i concorsi ma non elevando la qualità della sanità di quel territorio e dando in questo momento magari la possibilità però di fare assunzioni perché in alcune regioni che poi sono quelle che hanno i lea più bassi che avranno anche il nuovo modello più basso che hanno la spesa maggiore di evasione diciamo nel senso che i cittadini di quelle regioni vanno a curarsi in altre regioni e fare assunzioni mirate in quei centri in quegli ospedali dove si chiudono i reparti per mancanza di personale è diventato un dramma e quindi alzare al 15% io dico per fortuna perché la qualità della spesa però va controllata perché altrimenti il rischio il rischio diventa che si faccia incetta ancora di personale che poi alla fine ingolfa gli ospedali e non ne qualifica l'aspetto sanitario prego metto che non sono un esperto del settore quindi come dire prendete con le pinze le cose che dico però sul territorio ci vivo e quindi vedo come funziona il passare come diceva lei da adesso la brutalizzo in questo modo qui da un'erogazione di risorse sulla base di quota capitaria o comunque di una fotografia della realtà sociale ad un'erogazione sulla base di prestazioni sostanzialmente o di qualità di prestazioni bisogna che facciate molta attenzione dentro questo disegno perché il rischio è che sia accentrante su chi funziona bene e dato che noi abbiamo un territorio nazionale che è disomogeneo e lo dico contro il mio interesse io sono in una zona dove la sanità funziona benissimo il rischio è che chi già funziona bene alla fine prenda più risorse e quindi che sia un autoavvitamento che marginalizza chi è già marginato perché se noi iniziassimo a dare risorse come dire con un parametro che tenga conto ne tiene conto indirettamente che poi ci sono i trasferimenti interregionali e via discorrendo ma più marcatamente che riconosca chi eroga le prestazioni il rischio è che su 5 o 6 poli del nord Italia eroghiamo le risorse e gli altri si attaccano cioè adesso lo dico così come tema generale poi con tutti i correttivi del caso però io credo ci sia il tema esiste nel senso che il tema è capire come innestare politiche virtuose laddove non ci sono che è la vera scommessa perché come dire i territori fortunati che già hanno una sanità efficiente per carità il problema è come trasferire determinati modelli funzionali laddove questi modelli in questo momento non funzionano cioè per un miliardo di motivi come dire non sono a livello di altri modelli ecco sostanzialmente perché cioè io a volte quando giro in alcune realtà mi è capitato girare per l'Italia di alcuni territori e di altri territori ti chiedi quale nesso ci sia tra le due realtà cioè nel senso che uno va in Ferrari e l'altro va in bici cioè i cittadini però sono cittadini italiani di qua e di là cioè perché un cittadino italiano deve avere l'obbligo di andarsene in bici e un altro deve poter andare in Ferrari cioè il tema vero credo sia come capire come incidere su determinati modelli comportamentali organizzativi e funzionali ecco inizio da quest'ultima io condivido le sue preoccupazioni tanto che le debbo dire che questo aspetto è quello che mi preoccupa di più della autonomia differenziata perché diciamo i due ambiti specifici sui quali inciderà di più sono l'istruzione che è pure importante ma se mi consente mi preoccupa di più la sanità per accentuare anche ancora di più le due tre velocità che abbiamo in Italia quindi io concordo pienamente la questione è di trovare un elemento però che come dire spinga spinga le aziende a fare quella determinata attività per poter poi come dire per poter ottenere risultati le porto un piccolo esempio a parte la quota capitaria per l'appunto e le stavo dicendo prima il Presidente di RG con i quali vengono pagati gli ospedali le regioni hanno un unico strumento di fare politica sanitaria che è quello di utilizzare il finanziamento per funzioni previsti sempre da quell'articolo 8 sexies nel quale per l'appunto a cui facevo riferimento del 502 nel quale sono indicate le varie forme di finanziamento del servizio sanitario nazionale io sono in una zona per l'appunto poverissima anche di posti letto nella zona dove è il mio ospedale vi ripeto sarebbe per me un grandissimo onore farvelo vedere perché è l'ospedale più bello della città nella zona più povera questo è il nostro orgoglio quindi siamo davvero un punto di riferimento sociale per questa città è proprio bellissimo e quindi in realtà abbiamo pochi posti letto siamo al di sotto del 2 per mille posti letto per abitanti mentre la normativa stabilisce il 3 posti letto per mille abitanti quindi abbiamo difficoltà intensamente del pronto soccorso pazzesco un po' perché la zona è un povero un po' perché ci sono pochi posti letto l'altro anno la regione Lazio diciamo noi gli ospedali che sono in quella zona andiamo sempre a chiedere aiuto in regione ha deciso di utilizzare la forma delle funzioni per incoraggiare le strutture accreditate che sono sul territorio che sono gestite dall'ASL con contratti di committenza dell'ASL per incoraggiare i trasferimenti dei pronto soccorso fino a quel momento non avendo nessun impegno specifico ovviamente le accreditate preferiscono prendersi il paziente è più semplice che ha bisogno di meno farmaci meno antibiotici meno specialisti ovviamente quelli devono fare lucro c'è poco da fare e in realtà tutto questo magicamente ha fatto sì che si rimuovessero i trasferimenti del pronto soccorso verso le case di cura accreditate quindi facendo un pochino liberando il pronto soccorso da una situazione di sopraffollamento incredibile questo per dire che lo sa perché secondo me la telemedicina non sta decollando in Italia la telemedicina in Italia questa è una cosa assurda non è tariffata noi abbiamo fatto un tavolo siamo stati chiamati al tavolo dall'istituto superiore di sanità sulla tariffazione della telemedicina lì c'è proprio una direzione specifica ed è una cosa incredibile ma è possibile che in Italia la telemedicina non sia tariffata io per esempio nel nostro ospedale sono orgogliosa perché abbiamo il centro di trattamento della stroke unit migliore in Italia quello che fa il più alto numero di trombectomie cioè di interventi sul cervello perché abbiamo una filiera oltre che di neurologi molto bravi di posti di terapia intensiva neurologica una radiologia interventistica di livello quindi per questo siamo il centro che ne fa il numero più alto in Italia però in realtà voglio dire io che noi allora abbiamo deciso insieme alla regione Lazio di agire in telemedicina perché noi siamo hub cioè siamo centro superiore di trattamento poi ci sono gli spoc che stanno in giro dove magari non c'è nemmeno il neurologo allora in realtà abbiamo deciso di agire ma io comunque quel medico neurologo che sta dietro la telecamera lo devo pagare quindi il costo non è il collegamento che costa zero cioè è una cosa banalissima ma il costo del professionista c'è possibile che non sia tariffata allora questo per dire che ha ragione le sosservazioni le condivino pienamente però dobbiamo trovare un modo per fare sì che i soldi non arrivino e poi o tu o ce fai o non ce fai è la stessa cosa quanto invece alla per la seconda la seconda la prima domanda che aveva fatto invece era se secondo me è possibile trovare una semplificazione secondo me va trovata però Presidente va trovata con tavoli interistituzionali come abbiamo suggerito e anzi io le dico che voi siete stati per noi uno stimolo incredibile perché abbiamo fatto tutto un po' di fretta le dico la verità perché abbiamo preparato questi sei convegni per il forum di Firenze dove una delle è lì che ho saputo dell'esperienza dell'Asle 3 perché l'ultima giornata l'abbiamo dedicata alle vetrine delle esperienze regionali le migliori esperienze di integrazione socioassistenziale e anzi noi faremo abbiamo deciso di raccogliere noi siamo piccoli perché voglio dire siamo proprio piccoli però cerchiamo tra di noi di aiutarci molto diciamo per raccogliere queste esperienze e queste esperienze Presidente se mi consente poi magari le farò avere queste esperienze di integrazione perché magari possono servire in Italia questa cosa dell'Asle 3 di Genova c'è Carlo Bottaro che è venuto ad illustrarla che è il DG dell'Asle 3 per me è stata un'esperienza importante ho avuto anche modo di riferirlo oggi a voi quindi secondo me diciamo la semplificazione va fatta quindi per noi voi siete stati uno stimolo perché chiusa a Firenze il 29 novembre le faco di parli pochi giorni fa abbiamo messo insieme un po' di idee questo documento non ce l'avevamo pronto ovviamente e però abbiamo deciso proprio su questo di lanciare un'iniziativa a livello comunale quindi mi riserverò comunque di portarvi risultati per vedere magari con qualche esperienza avanzata per esempio il Friuli è molto avanzato su queste esperienze sia di teleconsulto di domotica ma sia anche di semplificazione che magari possa essere un suggerimento anche per noi su come fare a livello nazionale ultimo punto quello che lei mi ha chiesto ma secondo lei c'è un modo allora guardi una delle esperienze professionali mie personali maggiori è stata di aver fatto per due anni io vengo dall'area del personale facevo il direttore del personale prima al San Camillo che è un'azienda grande romana e poi a Tor Vergata prima di diventare direttore generale con un'esperienza diciamo di mezzo presso un ente un po' strano che è un ente religioso l'Acismon che è l'ente sanitario dell'ordine di Malta che però mi ha dato uno spaccato sulla sanità religiosa che non è stato male perché è stata una grande esperienza in realtà sono stata due anni consulente in materia del personale del Siveas il Siveas è l'organismo della cabina di regia del Ministero della Salute per le regioni in piano di rientro quella normativa che risale al dicembre 2004 sulla quale si è messa mano soltanto con il DL Calabria e molto giustamente prevedeva una cosa terribile Presidente e cioè quella che non appena si fosse realizzata una situazione di default finanziario oltre prima del 7 poi il 5% di deficit c'era il blocco automatico del turnover allora le faccio l'esempio ancora una volta di operatore del settore io sono arrivata a Tor Vergata avevo un deficit di 74 milioni nel 2014 ho chiuso il 2018 a meno 19 55 milioni in 4 anni e mezzo io ho speso 10 milioni in più sul personale in questi anni quindi tutta la manovra è stata su gare e su razionalizzazione dell'organizzazione beni e servizi perché sul personale è difficile proprio risparmiare secondo me si deve investire allora lì c'era una tara e quindi per questo è bene lo sblocco quello che intendo dire per farci cosa è chiaro che se noi dobbiamo spostare più sul territorio magari ci serviranno più infermieri per magari percorrere l'esperienza del collega Bottaro all'ASL Genova 3 piuttosto che medici e poi una cosa importante ma ancora non abbiamo validato ci sta lavorando la conferenza delle regioni quelle che sono le dotazioni organiche necessarie per poter far fronte per esempio al DM70 allora voglio dire se noi non sappiamo cosa fare rischiamo che lasciamo esclusivamente come dire nelle mani così discrezionali l'acquisizione di unità di personale senza un disegno organico quindi secondo me sarebbe importante lo sblocco è necessario soprattutto in realtà come la sua nelle quali abbiamo avuto il blocco automatico del turnover ma lei si rende conto che dramma dopodiché però secondo me correlativamente io sono favorevole a quello sblocco però secondo me correlativamente bisognerebbe cominciare ad interrogarsi su quale riforma vogliamo per la sanità portando al centro il medico di mecenia generale vedere come collocare l'infermiere di comunità Presidente e la chiudo la cosa fondamentale di cui discutiamo oggi in sanità è quale sia il raccordo tra professioni sanitarie la legge Lorenzin ha trasformato gli infermieri in ordine è stata una cosa molto positiva comunque c'è un innalzamento di professioni però oggi che le professioni si stanno discutendo anche a seguito del contratto collettivo del comparto che c'è stato lo scorso anno tra competenze avanzate degli infermieri quali debbano essere in relazione a quelle mediche ecco dobbiamo davvero fare chiusura su un sistema perché altrimenti rischiamo di parlare a vuoto bisogna di ospedalizzare spostare sul territorio e poi però se non pensiamo a qualcosa davvero di rilevante rischiamo di disperdere risorse che sono preziose e guardi e chiudo così mio figlio è stato un anno a fare il liceo in America sa che ci sono questi scambi culturali lui che è un disordinato da morire ha rischiato di non essere assistito un ragazzino di 17 anni si era rotto un legamento perché non trovava il certificato assicurativo allora io dico ha proprio ragione il ministro quando dice ma tutti noi penso lo diciamo difendiamo con le unghie questo sistema però questo sistema passa attraverso la sostenibilità passa attraverso la sostenibilità ecco grazie davvero dottoressa Frittelli innanzitutto posso dirlo credo al nome di tutti poi magari ci rimetteremo in contatto perché una visita la farei volentieri lo conosco l'ospedale essendo ormai romano d'adozione da molti anni però credo che sia utile perché non voglio fare le lode in ospedale però si può vedere lì la modalità per cui si può far nascere dal nulla così come è nato ormai qualche anno fa quell'ospedale in una zona non semplice quando andremo vedrete anche la modalità che per arrivarci è un po' contorta con vie e viuzze però dentro sembra più di stare in una sorta di clinica americana quando si entra che non nei classi ospedali italiani con eccellenze che conosco e che penso sia utile andare a visitare anche il nostro lavoro e quindi di questo poi magari ci metteremo d'accordo con modalità e tempi cercheremo anche con i tempi diciamo nel dopo stabilità perché altrimenti sarebbe una promessa vacua che facciamo oggi e invece per le altre cose nel ringraziarla ricordo che nelle prossime settimane faremo l'audizione del Ministro Speranza mercoledì prossimo l'audizione della Ministra Dadone il mercoledì successivo quindi tratteremo i due punti diciamo con il nuovo governo e quindi prima delle vacanze potremmo avere poi un punto finale per questa nostra parte grazie ancora e dichiaro chiusa l'audizione grazie grazie grazie